Coraggio, merito e talento sono le tre parole chiave al centro del convegno organizzato da Confartigianato Assimprese al Teatro Stignani di Imola che ha visto sul palco il ministro del lavoro Giuliano Poletti, lo psicologo Paolo Crepei, il segretario nazionale di Confartigianato Cesare Fumagalli e Oscar Farinetti, patrona di Italy che tra l'altro ha raccontato alcuni dettagli sul progetto FICO, la fabbrica italiana contadina, una Disneyland dedicata ai prodotti tipici e alle varietà delle culture italiane che può essere un fiore all'occhiello in Italia ma anche nel mondo e al quale ha partecipato anche Confartigianato con un investimento di un milione di euro. Inizia un appuntamento prestigioso qui allo Stignani per parlare di coraggio, merito e talento al termine dell'assemblea congressuale, che tipo di incontro è? È un evento che vuole trasmettere positività al nostro territorio, positività nell'ambito della città metropolitana di Bologna in quanto questa sera abbiamo l'onore di avere il ministro del lavoro Giuliano Paletti, abbiamo Crepe, storicamente un professionista che trasmette fiducia alle famiglie, ai giovani e anche agli imprenditori. L'eccellenza di Oscar Farinetti come rappresentante di un importante progetto che è in fase di realizzazione a Bologna, FICO, fabbrica italiana contadina, un progetto che prevede che possono arrivare milioni di visitatori. Milioni di visitatori vuol dire lavoro per l'area del turismo, per i servizi, ricchezze per il territorio e conseguentemente noi siamo qui proprio per voler partecipare a pieno titolo. Tra l'altro la Confartigianato ha simprese Bologna Metropolitana, che è la nostra associazione che ha appena cambiato nome durante la fase congressuale, è l'unica associazione che da Imola ha partecipato in maniera importante nel capitale di questa nuova costituente struttura che si dovrebbe realizzare. Quindi coraggio, talento e merito, ma l'altra parola chiave che hai già citato è fiducia in questo periodo. Sì certo, ci vuole fiducia, bisogna credere in noi stessi, dobbiamo prendere atto che è cambiato un modo di fare imprese, un modo di organizzare il lavoro e soprattutto la società civile. Se restiamo fermi ovviamente non creiamo nuove opportunità, dobbiamo essere aperti, aperti al confronto senza perdere quelli che sono i valori storici che la nostra associazione Confartigianato in particolare si è sempre distinta perché noi non vogliamo essere un sindacato di impresa, vogliamo essere prima di tutto un sindacato di impresa con delle persone, mettendo la persona al centro dell'attenzione. Le persone le vogliamo ovviamente in rete, soltanto con un sistema in rete crediamo che possiamo essere dei costruttori di opportunità per i nostri figli. Farinetti, lei questa sera è uno degli ospiti di rilievo di questo incontro in cui si parla di fiducia verso il futuro, le parole chiave sono coraggio, merito e talento, lei possiamo dire non ne ha da vendere. No, no, ho tanto da imparare anch'io, guardi la parola chiave delle tre è il coraggio, quella che serve di più oggi, perché viviamo in un momento storico in un paese dove il coraggio tende a scemare, soprattutto per chi fa impresa, nel senso che un imprenditore che ha quattro soldi in tasca può pensare che è forse meglio investire nella finanza, le tasse sono la metà, non si rischia molto di meno, nessuno ti protesta contro e quindi stai bene. Il talento, secondo me il vero talento è capire che esistono persone che hanno più talento di te e quindi creare le squadre, il peggior talento è quello di quelli che pensano di essere più talentuosi di tutti. Sul merito bisogna fare un ragionamento a parte perché bisogna, il vero merito è partire tutti dalla stessa riga e capisci che per chi nasce figlio di un operaio, magari anche in difficoltà, rispetto per esempio a me che sono nato figlio di un imprenditore già bravo, io dovrei farmela perdonare questa fortuna quindi dire che ho più merito, insomma è tutto da vedere. Sulla meritocrazia è il tema sul quale sono un po' più freddo, cosa mi interessa molto è il tema del coraggio, però per avere coraggio devi avere speranza perché se non hai speranze non ti viene ad essere coraggioso e per avere la speranza bisogna vedere della luce, bisogna capire che ce la puoi fare e bisogna quindi lavorare per creare uno scenario. Non bisogna togliere la testa che la colpa sia sempre, la colpa al merito è sempre ai politici, non è vero, ciascuno di noi deve alzare il sedere della sedia, deve tirarsi sulle mani che deve lavorare. Sul tema del coraggio lei ha creato un marchio ormai noto in tutto il mondo, quello di Italy e sta lavorando ad un progetto molto importante con la collaborazione di tanti imprenditori, ecco questo progetto FICO, di cosa si tratta? E' lì veramente, è lì proprio un progetto coraggiosissimo, si tratta di celebrare la meraviglia dell'agroalimentare italiano nella sua pienezza partendo dalla terra madre e facendo vedere a chi verrà come dal campo, dalla terra si arriva al prodotto finito, per esempio vedere un campo di grano duro, capire perché in Italia abbiamo la biodiversità più alta del mondo, 140 cultivar diverse, seguire quella spiga di grano dentro un mulino, vedere che diventa semola, poi seguire la semola che entra in un pastificio, vedere che diventa pasta, poi magari andarla anche a mangiare o comprare, seguire il percorso delle olive, dei grappoli d'ua, dei pomodori, dell'arancia, questo, capire questa meraviglia di questo paese unico al mondo perché è il paese più biodiverso del mondo. Abbiamo pensato che se gli Stati Uniti fanno Disney World con Topolino e Disney, noi la nostra grande giostra deve essere il cibo e quindi abbiamo pensato di chiamarlo Fico, che vuol dire fabbrica italiana contadina, proprio perché partiamo dalla terra, il sottotitolo sarà Italy World, soprattutto per i turisti stranieri che conoscono molto il nostro marchio. Crepe, questa sera ci si confronterà su tre parole chiave, coraggio, merito e talento, fondamentali in un periodo come questo. Lei che comunica molto anche con le nuove generazioni, che tipo di messaggio intende dare? Credo che queste siano delle parole vecchissime e nuovissime, quindi credo che non si possa prescindere da nessuna delle tre, sono fra l'altro tutte legate una all'altra, per cui non ci può essere talento se non c'è merito e non ci può essere merito se non c'è coraggio, quindi non so se siano l'ordine del giorno di tante famiglie perché credo che molti pensano ancora di cavarsela così in apnea, speriamo che passi, non è un temporale estivo, questo è un cambiamento colossale del paese e non credo che sia solo un cambiamento in negativo, anzi io penso che sia l'alba anche di un nuovo giorno molto diverso da quelli precedenti che abbiamo visto e vissuto, io anzi sono molto contento di essere osservatore di questo grande cambiamento, bisogna essere attrezzati a questo naturalmente, bisogna avere appreso qualcosa della lezione che questa crisi ci ha dato e la lezione è che bisogna cambiare completamente, bisogna cambiare cultura, bisogna cambiare approccio al lavoro, bisogna cambiare approccio allo studio, alla formazione, quindi credo che sia un cambiamento totale all'educazione dentro le famiglie, non si può tolerare 3 milioni di persone, di ragazzi e di ragazze che non studiano e non lavorano, questo è un piombo che affosserebbe qualsiasi anche gli Stati Uniti, quindi non ce lo possiamo permettere, quindi tante cose che noi deleghiamo alla politica, io credo che si possano fare qua, qui ed ora, questo è il bello anche, non dobbiamo aspettare il Jobs Act piuttosto che la nuova finanziaria, io credo che la finanziaria comienza nel salotto di casa. Magali si parlerà di merito, coraggio e talento, sono queste le tre parole che devono portarci al di fuori di una crisi che ormai dura da 8 anni. Beh, ci sono tante tecnicalità che in questi giorni sono l'attenzione del Parlamento sulla proposta di legge di stabilità del Governo con tentativi di far ripartire una situazione che è incagliata ormai da un numero lunghissimo di anni, 7 anni di cui 5 ormai conclamatamente in recessione, di cui gli ultimi tre consecutivi sono una prova terribile per tutte le economie, purtroppo la situazione è frequente in giro per tutta Italia e di più sono state colpite proprio le zone dove il sistema produttivo era più forte. La piccola impresa di cosa ha bisogno? La piccola impresa ha bisogno di un contesto favorevole, sento moltissimi che si riempiono la bocca quasi fosse un ritornello di avere attenzione alla piccola media impresa, forse molti non sanno cosa dicono perché poi le politiche troppo spesso sono indirezzate invece ad altro rispetto che alla piccola impresa.